Dicevo che le oche sono arrivato con la macchina, si sono avventate contro la macchina con le ali spiegate. Hai capito? Non si può uscire adesso, no, perché le oche non vogliono. Questo è il ballo del quacqua, ogni papero che sa fare solo quacqua, 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 quacqua. Questo è il ballo del quacqua, ogni papero che sa fare solo quacqua, 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 quacqua. Oh, il maschio del loco cos'è? Che cosa è? Il maschio del loco, è loco? No, è il pappagallo. Ah, pappagallo. Ah, pappagallo. Grazie a tutti.